Sono a New York dove prosegue al Consulato Italiano la visita del Ministro dell'Interno Piantedosi che ieri a Washington ha incontrato la Vice Ministra della Giustizia Lisa Monaco e il Segretario per la Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas. Lotta alla criminalità organizzata, contrasto al traffico della droga e all'immigrazione illegale, i principali temi trattati su cui c'è una grande collaborazione tra Stati Uniti e Italia, come ci ha confermato poco fa il Ministro Piantedosi che ci ha anche annunciato che sul fronte dell'immigrazione mercoledì prossimo a Roma riceverà il Ministro degli Interni tunisino. Piantedosi sarà tra poco in visita al quartier generale della Polizia di New York e la linea torna a voi.